Nella Bibbia il concetto di missionarietà implica da parte di Dio una chiamata. Dio chiama e ciascuno risponde liberamente secondo le varie disponibilità. Dio chiama Mosè, chiede che il quale chiede segni di accreditamento presso il popolo. Cosa dirà il popolo? Chi ti ha autorizzato a comandare su di noi? Dio parla a Isaia il quale subito dice eccomi Signore manda me. Dio parla a Geremia e presenta varie obiezioni ma poi si mette a disposizione di Dio. La missione di Gesù continua anche negli Apostoli. La missione di figlio di Dio raggiungerà tutti i confini della terra con la Chiesa. Gesù aveva detto io vi mando tra il popolo come agnelli in mezzo ai lupi ma sono io che vi mando perché io vi ho scelti, vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Allora noi qui già da queste parole del Vangelo vediamo la potenza del mandato di Dio come missionari. Sono gli artefici di creare sulla terra un mondo migliore, il mondo della pace, della serenità, della gioia. A questa missione però dove abbiamo notato che c'è una chiamata specifica per alcune persone vi è un altro tipo di chiamata, cioè a tutti i battezzati e nel battesimo che Dio a ciascuno di noi dice va e parla in nome mio. E come con la testimonianza di vita in modo particolare, con l'amore verso i bisognosi, con la sensibilità verso le persone sole, con l'impegno a creare un mondo migliore. Ogni battezzato non si può escludere, non può chiudersi in una vita privata perché è scelto da Dio come figlio adottivo e ogni figlio deve avere la responsabilità della famiglia. Il regno di Dio è vicino, Gesù viene a gettare il seme e deve ricostruire il paradiso perduto e quindi ricreare uno stato di amicizia tra le creature e il creatore e il lupo e l'agnello staranno insieme. Gesù annunzia le beatitudini, un discorso difficile per coloro che ascoltavano questi messaggi, questi progetti di una vita migliore e quindi annunzia le beatitudini che dovranno ricostituire il paradiso perduto e le annunzia beati poveri in spirito, i miti, i puri di cuore, gli operatori di pace, coloro che soffrono per creare un mondo di serenità e di vera fratellanza per tutti. Padre Pio ci insegna che anche lui ha sentito questa voce di partire missionario e poi dovrà rassegnarsi perché il padre generale non glielo concede questo dono partendo dal fatto che era malato e bisognoso a sua volta di aiuto e di assistenza. però diventa missionario nel suo ambiente. Basta pensare quanto era all'ospedale militare di Napoli, malato, però era l'ancelo del conforto tra i tanti militari, aveva la sofferenza della malattia, l'umiliazione della malattia, simpatico quanto si presenta alla visita militare e per paura che gli rubassero la roba, se la mette tutta addosso, si presenta al colonnello medico che dice di svestirsi e comincia a togliersi la giacca, il doppio maglione, il doppio maglione eccetera e il medico dice ma militare tu non c'hai addosso una biancheria, tu addosso c'hai un magazzino. A parte la battuta nell'ambiente militare padre Pio si sforza di essere missionario.